Allora qui adesso l'angolo di inclinazione tra i due alberi è 90 gradi, dunque sono uguali, dunque è una meter gear e modulo è 4, Z39 e l'angolo di pressione è 14,5. E naturalmente il shaft angle è 90 gradi, viene così, andiamo a valutare il rilevamento di interferenze, calcola, naturalmente abbiamo delle interferenze minime che è anche coincidenti, e dunque andiamo a vedere qui, una è questa qui, una questa, 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 questa qui, ok, e poi questa e questa qua. Ok, va bene, e posso farla ruotare, ok, faccio ruotare tranquillamente. Ok, adesso andiamo a valutare il rilevamento di interferenze, calcola, 0,5, 0,5, dunque siamo sempre con le 4, coincidente, coincidente, questa piccolissima, 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 piccolissima. Dunque, credo che questo giustifichi la bontà, certifichi la bontà del progetto, magari la lavorazione che ho fatto con solido, magari si potrebbe affinarla un attimo, e magari veniva fuori un attimino più precisa, però da un punto di vista didattico questo va più più che bene, insomma. Subscribe. Va beh, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.